Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione dal territorio. Vicenza ha blindato oggi per la visita del Capo dello Stato, molto alte le misure di sicurezza predisposte nel capoluogo berico per la prima visita di Mattarella in Veneto. La zona attraversata dal corteo presidenziale era stata bonificata in ogni angolo. Il Presidente della Repubblica è stato a Vicenza dove ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per i 100 anni dalla nascita di Mariano Rumor. Al termine della cerimonia al Teatro Olimpico il Capo dello Stato ha fatto una breve passeggiata in centro storico, accolto in strada da applausi e cori di incoraggiamento. In concomitanza con la visita del Presidente della Repubblica i sindacati OSB hanno dato vita ad una protesta sindacale alla quale hanno partecipato decine di rappresentanti, insegnanti, dipendenti della provincia. Uno di loro ha consegnato una lettera al Presidente tramite una persona della scorta. Mattarella ha parlato anche di accoglienza, lo ha fatto con i cronisti presenti che gli hanno posto una domanda sulla situazione attuale relativamente all'accoglienza e ai profughi. L'accoglienza, ha detto il Presidente della Repubblica, è difficile, è complessa e necessaria. Occorre solidarietà e intelligenza, sono cose di cui il nostro Paese è capace di fare uso. Sorpresa in Consiglio regionale del Veneto, due degli eletti sono stati fatti uscire, due esclusi sono entrati. Un boccone amaro per gli eletti esclusi e una sorpresa per i ripescati. Ad uscire Massimiliano Barison, sindaco di Albignase con il Padovano, e Tiberio Businaro, sindaco di Carceri, sempre della provincia di Padova. Rientrati Maurizio Conte e Marino Zorzato. Intanto è già stata programmata la prima seduta della nuova giunta del Consiglio regionale. È convocata per lunedì 22 giugno alle 10.30 la prima seduta del nuovo Consiglio regionale del Veneto, che inaugurerà così la decima legislatura. L'articolo 49 dello Statuto e l'articolo 2 del nuovo regolamento dispongono infatti che la prima seduta di ogni legislatura avvenga entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale della Corte d'Appello di Venezia. A convocare la seduta a norma di regolamento il consigliere anziano Fabiano Barbisanna, che presiederà l'Assemblea in attesa che il Consiglio elegga il Presidente per tutta la nuova legislatura. Questi i punti iscritti all'ordine del giorno, la comunicazione del Presidente provvisorio relativa alla composizione del nuovo Consiglio, l'elezione del Presidente effettivo, dei Vicepresidenti e dei segretari del Consiglio regionale. La seduta continuerà anche nella giornata di martedì 23 giugno. Nei giorni successivi è prevista la costituzione formale dei gruppi consigliari. Per famiglie ed imprese quella di oggi è stata una giornata campale per il pagamento di tantissime tasse, oltre a Imo e Tasi, pagamento anche delle ritenute e delle addizionali IRPEF, IRES, IRAP, IVA e Latari, per un importo complessivo che ha sfiorato i 50 miliardi di euro. Lo rileva la CGA, secondo la quale in termini assoluti l'imposta che ha pesato maggiormente sui bilanci delle aziende italiane è stato il versamento delle ritenute IRPEF dei dipendenti e dei collaboratori delle imprese. Conto alla rovescia per l'avvio agli esami di maturità che attende circa mezzo milione di candidati. L'esame vede al debutto i nuovi indirizzi nati dalla riforma Gelmini. Il portale scuola.net ricorda le novità dell'esame di quest'anno, ma anche gli aspetti che restano invariati. La prima prova, quella di italiano, dunque, uguale per tutti gli indirizzi, si svolgerà domani. La seconda prova è fissata per il giorno successivo, il 18 giugno, mentre la cosiddetta terza prova, il quizzone, è in calendario per lunedì 22 giugno. Esaurito il trisse degli iscritti, si passerà ai colloqui orali. E adesso andiamo a Mestre. Avrebbe truffato decine di clienti, ma avrebbe partecipato anche ad un bando in maniera irregolare. Per questo risulta al centro di una doppia inchiesta della Guardia di Finanza. Lui è il presidente nazionale di un movimento di consumatori. Sentiamo nel dettaglio. Vari contribuenti veneziani gli avevano dato fiducia e gli consentivano di gestire i conti bancari delle loro attività. Erano convinti che eseguisse i dovuti versamenti all'erario alle scadenze dovute, ma non lo faceva. Decine i clienti che sarebbero arrabbiati e truffati. Lui è un consulente tributario e presidente nazionale del movimento consumatori con sede a Mestre. Le accuse sono state mosse da vari clienti. Il pubblico ministero, Stefano Buccini, ha ordinato una serie di indagini e sono scattate le perquisizioni degli uomini della Guardia di Finanza. Dalle indagini sono emerse delle irregolarità anche sulla partecipazione ad un bando regionale per il quale il professionista avrebbe presentato della documentazione ritenuta dalle indagini non idonea. Il nucleo di polizia tributaria ha sequestrato varia documentazione che ora sarà vagliata nel dettaglio. In particolare viene contestato dalle fiamme gialle l'utilizzo di fattura in maniera non regolare. Il bando era stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la Regione Veneto ed è stato utilizzato per il Movimento Consumatori. Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori, ha inviato una lettera di dimissioni che è stata pubblicata sul sito internet del Movimento definendosi oggetto di attacchi inauditi da parte della stampa in merito all'inchiesta e ribadisce l'infondatezza delle accuse. Il prossimo 17 luglio andranno all'asta i beni milionari della Nordic Service, la società di sicurezza in amministrazione straordinaria dopo il crack provocato dal suo amministratore che distraeva i fondi conservati nel cavo per vivere una vita di lussi. La scorsa notte è fallito assalto alle poste di Piombino d'Ese nel Padovano. In azione una banda che ha forzato la saracinesca a infranto la vetrata con un tombino di ghisa e poi ha tentato di agganciare ad un'auto la cassa banco. Matteo il colpo però è fallito. I malviventi in fretta e furia hanno dovuto abbandonare la scena perché sul posto sono arrivati i carabinieri. Sono in corso indagini. Adesso invece parliamo di una rapina avvenuta ieri sera in un negozio wind, un negozio del centro di Padova, nella centralissima via Roma. Tanta la paura. Paura lunedì sera in un negozio wind di via Roma a Padova. Verso l'ora di chiusura nell'attività commerciale è entrato uno sconosciuto con il volto coperto. L'uomo ha minacciato la cassiera, l'ha costretta a chiudersi nello sgabuzzino del negozio. Lui ha tentato di rubare dei telefoni ma non è riuscito. La donna nello stanzino ha trovato un cellulare con il quale ha dato l'allarme e in pochi minuti sono arrivati sul posto gli uomini della vicina questura. L'uomo aveva con sé un borsello nel quale teneva una presunta arma. Gli investigatori hanno avviato le indagini. Le molteplici telecamere presenti in zona e nell'attività commerciale dovrebbero fornire un identikit del rapinatore. Oggi sciopero nel trasporto ferroviario dopo la gravissima aggressione subita dal capotreno nel convoglio di Milano. La protesta è stata indetta dal sindacato autonomo Orsa e dal sindacato di base CUT. Varie cancellazioni dei convogli avvenute durante l'astenzione per tutta la giornata di oggi. Pensate che solo a Pardova sono stati cancellati 12 treni regionali e durante la giornata odierna si è svolto anche un incontro dove si è parlato proprio della questione sicurezza. Dopo il dramma che si è consumato a Milano all'interno del treno dove un gruppo di immigrati sudamericani ha ferito gravemente il capotreno il settore ha scioperato per otto ore per chiedere maggiore sicurezza a bordo dei convogli per difendere il personale di servizio. Si è svolto un incontro tra il gruppo Ferrovie Italiane e i sindacati Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti e Fast Ferrovie. Durante l'incontro sono state espresse le preoccupazioni. È stato presente anche Zaya che ha proposto di rafforzare la polfera o far salire i soldati sui convogli. Le ferrovie sono come le strade, occorre garantire sicurezza e per farlo non deve esserci alcuna remora o impedimento a usare l'esercito. Occorre porre un'argine di vigilanza totale e di tolleranza zero perché in un paese civile non è possibile avere paura di lavorare o salire su un treno. Parlo di episodi, conclude il governatore del Veneto, che accadono sempre di più anche sulle tratte ferroviarie e nelle stazioni del Veneto e che solo per caso, sinora, non hanno portato alle grevissime conseguenze di Milano. È ora di agire, dice Luca Zaya, con il spiegamento di tutte le forze necessarie e con tutta la durezza necessaria. Ad avere paura di salire sui treni devono essere i delinquenti e i malintenzionati, non i ferrovieri o i pendolari. A Verona, operazione della squadra mobile che ha arrestato due persone, quelli soggetti che avevano aggredito due italiani, riducendoli anche abbastanza male. Un'aggressione che si era consumata a febbraio all'interno di un bar. Sentiamo. Arrestati due emigrati accusati di tentato omicidio per una brutale aggressione avvenuta lo scorso febbraio a Verona. A identificare i due, un algerino e un tunisino, sono stati gli uomini della squadra mobile veronese. I fatti erano accaduti in un bar. I due erano entrati nella struttura armati di coltelli e manganelli telescopici, aggredendo due italiani. Erano stati momenti di terrore nei quali la gente che era nel locale in preda al panico era fuggita. Anche i due aggrediti erano riusciti a salvarsi, ma ne erano usciti malconci. A mesi di distanza, le indagini hanno portato a individuare gli autori di quelle violenze. I motivi restano al momento ancora da accertare, ma sulla base degli elementi raccolti, la procura di Verona ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti dei due stranieri che sono stati arrestati la scorsa notte. Adesso parliamo ancora di spaccate notturne in provincia di Padova, in una tabaccheria a Loreggia. Il colpo è avvenuto la scorsa notte in piazza Baratella. Il ladro dopo essersi aperto un barco si è calato dal tetto. Obiettivo la macchina slot e il denaro evidentemente contenuto all'interno. Nei locali della tabaccheria però è presente un sistema di sicurezza fumogeni che ha mandato all'aria il piano del malintenzionato. I locali sono stati invasi dal fumo e quindi il balordo si è dovuto dileguare oltre al fatto che non riusciva a vedere all'interno. È riuscito comunque a rubare un po' di denaro presente in cassa. È accaduto verso le 3.30 della notte sul posto e i carabinieri di Piombino d'Ese. Parliamo ancora di spaccate avvenute in provincia di Padova. In via Unaudi a Curtarola un uomo ha preso di mira un'azienda che vende impianti per antifurti e si è impossessato di vari kit di videosorveglianza. La prima fase della razzia è stata registrata dalle telecamere. Gli investigatori hanno visto tutte le mosse dell'uomo che ha agito da solo. Dopo la merce rubata ha rubato anche il fondo cassa. Vari i danni subiti alla struttura sul posto e i carabinieri di Cittadella. Forte nubifraggio nel pomeriggio in Veneto. A seconda delle zone il territorio è stato colpito in maniera più o meno intensa. Imponente la quantità di acqua scesa in poco tempo. Alcune zone hanno riportato allagamenti a Vicenza. Problemi nella sede del Tribunale dove l'acqua è entrata senza faticare più di tanto. Una situazione che purtroppo viene denunciata molto spesso quando piove. Ed ora diamo uno sguardo a che cosa è previsto a livello meteorologico per i prossimi giorni. Il livello del mare. L'Italia è in una situazione intermedia tra l'alta pressione del vicino Atlantico e la bassa presente sulla Scandinavia. In quota tratti la circolazione resterà ciclonica con qualche incursione di aria fresca associata ancora a fasi di instabilità. Sul Veneto ne conseguono giornate dal tempo variabile con passaggi di instabilità e precipitazioni ancora fino a domani. Nonché probabilmente anche verso la fine della settimana. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata domani. Grazie a tutti.